Bonito, tutto mi sembra bonito Quaranta volontari, sei quintali di carta riciclata, sette quintali di febbre e un anno di lavoro Sono gli ingredienti del Gran Carnevale Cremasco, giunto nel cuore della 26esima edizione Il Carnevale Cremasco vuol dire anche promozione per la nostra città Una promozione a tutti i livelli perché noi con la nostra attività portiamo nelle tre domeniche All'incirca tra gente che viene al Carnevale, tutto l'indotto dei mercatini così in 40.000 persone Noi abbiamo una Carneval Car in cui diamo praticamente il posto per andare a mangiare a prezzo canierato L'entrata al Carnevale e in più facciamo anche promozione alla città Abbiamo delle guide che portano i turisti in giro per la città Quindi serve anche un collegamento molto ampio rispetto alle altre realtà Sfruttando di più questo momento caldo nella nostra città In cui si possono inserire benissimo anche dalle altre manifestazioni Come per esempio il teatro potete fare una settimana di teatro posto per i bambini Coinvolgendo le scuole Volano per l'economia della città e divertimento assicurato per i bambini Sono loro infatti i veri protagonisti del Carnevale Cremasco Il Carnevale Cremasco offre ai bambini oltre a poter partecipare alla sfilata Col trenino beniamino e il caro del castello che li renderà partecipi alla manifestazione Ci saranno a disposizione per tutti questi bambini anche dei gonfiabili completamente gratuiti Nel circuito del Carnevale proprio per promuovere il Carnevale dei bambini Da quest'anno inoltre il Carnevale Cremasco promuoverà e sarà a sostegno di Teleton Posso solo dire e sperare che la manifestazione si potrà svolgere regolarmente Grazie prima di tutto al tempo Speriamo che sia clemente quest'anno Che l'anno scorso ci ha dato purtroppo dei dispiaceri Saluto a tutti e buon Carnevale a tutti Grazie Grazie